Che cosa vorrebbe fare lei? Che cosa vuole adesso? Qual è la sua aspirazione? Come deve finire questa cosa? Semplicemente avere le scuse. Ma non ha ancora fatto il processo? Ti porti avanti col lavoro? Le scuse da parte del Ministro. Tutto qui, che è quello che sto dicendo dal primo giorno? Le scuse, pubbliche o private? Mi vanno bene tutte. Se oggi il Ministro chiamasse e dicesse mi spiace per quello che è successo, mi scuso per aver detto all'inizio, aver negato i fatti per com'erano, lei chiuderebbe tutto? Tutto.